Uscire dalla crisi non è facile. Signor Tarantino, anche se ci prestasse il suo Mr. Wolf, non credo che lui da solo riuscirebbe a risolvere tutti i problemi. La crisi è stata pesante. Nel vostro settore ha avuto implicazioni specifiche che hanno duramente pesato sulla occupazione. Ma questo non ha impedito di ideare e di realizzare opere di grande valore, film premiati dal pubblico e dalla critica, pellicole di successo, nei diversi generi, esordi promettenti, di nuovi registi giovani e di nuovi attori giovani. Dalla crisi non usciremo come vi siamo entrati. dobbiamo cercare di uscirne in modo migliore, migliorati, anche perché essa reso evidente che nel mondo, in tutti i settori, sono aumentati i protagonisti ed è cresciuta la concorrenza. e questo del resto è un bene.